presentiamo un pregiato e raro sistema completo audio tecnè composto da preamplificatore it1 finale stereo it2 e diffusori sp8716 gli appassionati audio più esperti conoscono bene la qualità delle leggendarie costruzioni di questo marchio giapponese che perfezione i propri apparecchi con una maniacale attenzione e minimi particolari attraverso la selezione dei componenti molte volte personalizzati i propri fini qui tutto è costruito a mano tarato con mille scrupoli con esecuzioni artigianali allo stato dell'arte i prezzi degli apparecchi erano e sono tuttora elevatissimi il preamplificatore it1 è tra ingressi linea un ingresso fono mm pregiatissimo uscita tape e muting il finale it mk2 ha una potenza di 12 watt per canale mentre i diffusori sp8716 sono dei monovia con altoparlante da 16 centimetri dalla sensibilità di 92 db e sono costruiti con un largo utilizzo di carbon block sono compresi anche gli originali stand in legno il sistema è poi completo di cavi di alimentazione originali audio tecnè modello rm con attacco vaschetta un cavo di segnale rc500 da un metro e un rc500 da 70 centimetri più un cavo di potenza a rsp500 da due metri con connettori a forcelle nell'insieme è compresa anche la multipresa da quattro uscite system and magic l'insieme aveva un prezzo di destino di circa 44 milioni di dire è tenuto in maniera maniacale in condizioni pari al nuovo poco utilizzato con valvole in piena efficienza un po' di più Grazie a tutti.